ciao a tutti l'altro giorno mi è arrivata una videocamera con microfono esterno perché ne comprai una un'imitazione della gopro io non sono un esperto per cui non sapevo che le gopro sono nate praticamente per fare camera car praticamente si mettono nelle auto e si filma ecco e quindi non hanno c'è il video lì hanno una bella risoluzione pur essendo piccole piccole però l'audio fa cagare infatti ho realizzato dei video sembrava di avere di parlare con la bocca scapiva un cazzo e niente volevo dire che ho visto il video stavo aspettando il video di perché ripeto secondo me glielo anche detto sarebbe l'ideale sapete perché perché dopo le cose che ha detto claudio se wikiuman non replica cioè rimane sempre quella dice ma forse se non replica magari sei cagato in mano c'ha ragione forse tutte le malefate che ha fatto magari è vero capito e quindi insomma cioè non che per carità io non giudico io almeno me ne frega un cazzo cioè ognuno io ho 52 anni ho i cazzi miei figurati se vado a giudicare cosa fa uno di roma in thailandia ma io li auguro ogni bene per carità non voglio non li voglio male ma non sto a dire ha fatto bene fatto male papà 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 cioè non me ne frega nulla voglio dire solo che lui l'allogia domani insomma la sapete tutti la storia ha interrotto i contatti con wikiuman e lui non ha voluto spiegazioni e allora è venuta fuori la merda e quindi pubblicamente come è venuta fuori anche io mi sento diciamo autorizzato a dire la mia ecco tutto qui e quindi ho fatto questo giurato questo mini video proprio giusto per tanto per gradire capito tutto qui poi sperando se Dio vuole leggero altri ciao